E' ora... Vediamo quale orribile morte per una così bella! Che cosa scelgo? La mela stregata! Il sonno della morte! Basta un solo assaggio della mela stregata e gli occhi della vittima si chiuderanno per sempre in un sonno mortale! Che cosa scelgo? Che cosa scelgo? Che cosa scelgo? Che cosa scelgo è la fine? È un po'